La leggenda narra di un manipolo di nobili guerrieri noti come i guardiani di Gaul. Quando una calamità incombe, cercali, poiché essi hanno giurato di proteggere gli innocenti e sconfiggere il male. Devo smettere? Cosa? No! No? Questa è la parte che preferisco! Soren, e poi che accade? Poi Lys sferra il colpo finale. I guardiani vincono, la 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 la, se ne vanno a casa, fine. Pensa a qualcosa di reale. Loro sono reali. Mi immagino di stare sul ciglio di un grande dirufo con i guardiani pronti a dare battaglia. Dai, facciamo una gara. Che sta succedendo? Dobbiamo trovare i guardiani. Sono gli unici che possono salvarci. Siamo un'unica famiglia adesso. Li troveremo insieme. Quando avremo volato fino all'astremo, saremo a metà strada! Che cosa ha detto? Che siamo a metà strada! Anche tu potrai essere un grande guardiano un giorno. No! Grazie a tutti.